Salve a tutti, io mi chiamo Gianfranco Marini, questa è la civetta di Atena, simbolo della filosofia. Benvenuti a queste video lezioni di filosofia in cui parleremo di Aristotele e della logica aristotelica. Questa è la prima lezione dedicata a una breve introduzione della logica aristotelica, che cos'è, che ruolo e funzione ha, in quali parti si divide, eccetera. E qui parleremo della logica dei termini, espressione moderna, con cui possiamo indicare l'esame che Aristotele compie in alcune opere logiche, dei termini o concetti. Per affrontare lo studio della logica aristotelica, utilizzerò questo documento che ho preparato io, e di cui metterò il link nel commento al video che pubblicherò su YouTube. Allora, che cos'è prima di tutto la logica aristotelica? Rispondere a questa domanda non è semplice, perché la logica di Aristotele non trova spazio in quella che è l'enciclopedia delle scienze. Come sappiamo, Aristotele distingue tra vari tipi di scienze, le scienze poetiche, quelle pratiche, quelle teoretiche, ma la logica non rientra in nessuna di esse. Infatti la logica non è una scienza poetica perché non serve per produrre qualcosa. Non si occupa del comportamento e delle questioni morali, e quindi non può neanche essere una scienza pratica, come la politica, per esempio la morale, appunto. Non è nemmeno una scienza teoretica, come la fisica, la metafisica, eccetera, perché non ha un contenuto specifico proprio distinto da queste. Qual è allora l'oggetto della logica? La logica si occupa della forma del pensiero, più esattamente della forma che deve avere il discorso, che voglia essere dimostrativo. Procediamo con ordine. Ogni scienza si caratterizza in quanto tale, secondo Aristotele, per il fatto che dimostra le proprie tesi, le proprie conclusioni. Cioè perché è capace di portare avanti un discorso dimostrativo in cui le proprie tesi vengono dedotte come necessarie a partire da delle premesse. Quindi la struttura del discorso dimostrativo, del ragionamento, è quella propria di ogni scienza. La logica è, in quanto si occupa della forma del pensiero e del discorso, appunto la scienza del ragionamento dimostrativo. Dal momento che la logica si occupa della forma del ragionamento, della dimostrazione, delle regole che deve seguire, quindi il ragionamento, per poter essere corretto, necessario, per poter essere una dimostrazione, è comune a tutte le scienze e fornisce ad esse le regole che devono seguire per poter dimostrare, ciascuna nel proprio ambito, la natura, il numero, il movimento, eccetera, le proprie conoscenze, le proprie affermazioni, le proprie tesi. E quindi è ciò su cui si fonda la logica e il valore dimostrativo di tutte le altre scienze. Come tale la logica ha un valore propedeutico, parola che sta nel significare introduttivo alle altre scienze. Quindi la conoscenza della logica introduce allo studio delle altre scienze e anche allo sviluppo delle conoscenze negli altri ambiti scientifici. E anche un valore metodologico, perché è lo strumento, il metodo di cui esse si servono per legittimare, giustificare, fondandole con una dimostrazione, le loro conoscenze. Una seconda domanda che occorre porsi studiando la logica aristotelica è che il rapporto vi sia tra la logica, come scienza che studia la forma del ragionamento del pensiero, e la realtà. Ebbene, la logica, abbiamo detto, studia il pensiero, studia il discorso, razionalmente strutturati, logicamente strutturati. Possiede però per Aristotele anche un valore ontologico, termine che in filosofia sta a indicare la realtà. Ha una valenza anche reale sul piano dell'essere, non vale solo sul piano logico del pensiero o del discorso, ma anche sul piano ontologico dell'essere, della realtà. Per Aristotele, infatti, come ho scritto qui, la struttura del pensiero, l'ordine del pensiero o del discorso, corrispondono all'ordine del pensiero o della realtà. È un tema che si affronta e si può comprendere, soprattutto studiando la metafisica. Un piccolo esempio, se io dico Marini è bello sul piano linguistico, che cos'ho? Sul piano logico-linguistico ho un'affermazione dichiarativa, un giudizio, in cui Marini, un certo soggetto, di un certo soggetto, Marini, viene predicata una certa caratteristica, il predicato appunto bello. Che cos'ho sul piano della realtà, cioè ontologico? Al soggetto Marini, a questo nome, corrisponde una determinata realtà autonoma e realmente esistente, che sarei io, che possiede una determinata proprietà, la bellezza. Quindi, come si vede, il piano del giudizio linguistico corrisponde, sul piano ontologico, a una realtà ben precisa, di una perfetta corrispondenza. Bene, procediamo oltre e chiediamoci adesso quali sono le opere logiche di Aristotele. Una domanda che non si può evitare. Qui abbiamo una riproduzione dell'organon aristotelico, in una edizione del XVI secolo. Vediamo l'insieme delle opere dedicate alla logica di Aristotele. Prende il nome di organon, che starebbe a significare strumento. Sono sei opere, questo termine fu utilizzato nel III secolo d.C. da uno studioso, commentatore di Aristotele, Alessandro di Afrodisia, che si preoccupò di classificare, sistemare, ordinare tutte le opere di Aristotele, compreso quelle logiche. E definì questo gruppo di sei opere logiche, appunto, organon. Bene, il primo sono le categorie, che potremmo definire un testo che analizza la logica del concetto, cioè che prende in esame i termini considerati isolatamente, non connessi in modo da formare un giudizio, una proposizione, ma presi isolatamente, slegati l'uno dall'altro. E li analizza per quelle che sono le loro caratteristiche, in quanto i singoli termini esprimono dei concetti. Aristotele esamina le proprietà dei concetti, e concetti o categorie con cui noi classifichiamo, etichettiamo, taghiamo, potremmo dire con un'espressione tratta dal web, tutto ciò che esiste. Segue un'opera chiamata sull'interpretazione, che potremmo definire un'opera di logica proposizionale, cioè in cui vengono esaminati i giudizi, le proposizioni, le loro caratteristiche e le loro proprietà. Quindi si studia come i singoli termini, combinati insieme, formano delle proposizioni, e nell'interpretazione si studiano, appunto, dicevo, le loro caratteristiche. Abbiamo poi gli analitici primi. Negli analitici primi, invece, si studia come le singole proposizioni, combinandosi tra di loro, formino un ragionamento, è la teoria generale del ragionamento, che Aristotele in greco chiama sillogismo, discorsi che stanno insieme. Negli analitici secondi si studia un tipo particolare, il più importante, secondo Aristotele, di sillogismo, quello scientifico, cioè quello le cui premesse sono vere, in modo che la conclusione sia non soltanto corretta sul piano formale, ma sia anche vera. Nei topici ci viene studiato il sillogismo dialettico, le cui premesse, invece, non sono vere, o comunque non se ne può dimostrare la verità, e quindi questa viene assunta solo ipoteticamente, mentre nelle confutazioni sofistiche vengono presi in esami i giochi linguistici, i paradossi, con cui i sofisti cercavano di dimostrare, per esempio, il loro relativismo, e Aristotele cerca di smontarli per capire quali siano gli errori di costruzione di questi ragionamenti, smontando così anche la tesi filosofica dei sofisti. Cerchiamo di chiarire preventivamente anche cosa significhi il termine, anzi, i termini che sono qui in gioco, organon, analittica e logica. Organon, abbiamo già detto strumento, è un termine introdotto non da Aristotele, ma da Alessandro di Afrodisia. Nel Terzo Sepolo d.C. Alessandro insegnava la logica di Aristotele e la definiva appunto strumento. Abbiamo già visto anche che significato ha questo utilizzo, l'utilizzo di questo termine. Questo termine passò poi, nella tradizione scolastica, a indicare gli scritti della logica aristotelica. Insomma, venne assunto dalla tradizione come titolo delle opere logiche di Aristotele. Abbiamo visto che è uno strumento che introduce allo studio delle altre scienze, ed è anche uno strumento delle altre scienze, in quanto definisce la struttura corretta del ragionamento dimostrativo o scientifico del ragionamento. Il termine che invece usava Aristotele era analitica. Con questo termine Aristotele indicava, nel senso proprio specifico, stretto che esso ha, la scomposizione di qualcosa di complesso nei suoi elementi semplici. Applicato al ragionamento che cosa significa? Significa la risoluzione, cioè il ricondurre le conclusioni del ragionamento alle premesse da cui queste conclusioni sono tratte, che è l'essenza, la caratteristica fondamentale della dimostrazione. In una dimostrazione le conclusioni devono essere conformi alle premesse, devono essere logicamente coerenti, non contraddittori rispetto alle premesse. Solo a questa condizione si ha un ragionamento, una dimostrazione corretta. Naturalmente una dimostrazione è formata da vari passaggi, non da una premessa e da una conclusione, ma da vari cicli di premesse e conclusioni che si succedono e si concatenano in modo necessario le une con le altre. Quindi il metodo risolutivo indica che l'interesse di Aristotele è indirizzato prevalentemente al tentativo di giustificare, esplicitare, chiarire e giustificare la possibilità del ragionamento scientifico inteso come dimostrazione necessaria. E infine il termine logica, che è quello che si usa ancora, che è invece di invenzione stoica, greco-logichè, risale più o meno al primo secolo avanti Cristo, e che significa scienza sui logoi, sui ragionamenti, sui discorsi, discorso sui discorsi, la scienza del ragionamento appunto. Qui è un'immagine trovata su Wikipedia della biblioteca della libreria, chiedo scusa, del congresso, la Great Hall, l'ingresso, il soffitto, a Washington, dove, come si vede dall'immagine, Aristotele è ben presente. Aristotele e Platone sono alla base non solo della filosofia, ma di gran parte della cultura occidentale, ovviamente. Bene, vediamo adesso le partizioni della logica aristotelica, cioè come Aristotele organizza la sua analitica. Abbiamo visto che le varie opere trattano argomenti diversi. Ebbene, diciamo che per rendere più semplice, più facile l'esposizione dell'argomento, ma anche in base al principio che Aristotele segue sempre, per cui occorre procedere dal semplice al complesso, o forse per una interpretazione di Alessandro di Afrodisia, le opere di Aristotele, quindi la logica di Aristotele, sono divise in tre parti che procedono dal più semplice al più complesso. Infatti abbiamo prima di tutto la logica dei concetti, la logica dei termini, che, come si diceva prima, prende in esame i termini presi isolatamente, senza connessione tra di loro, li slega dal giudizio e li considera isolatamente. I termini presi isolatamente esprimono concetti, e quindi diciamo che la logica dei termini studia le caratteristiche, le funzioni dei concetti. Segue la logica delle proposizioni, combinandosi insieme i termini, formano un giudizio, una proposizione, o asserzioni dichiarative, che sono quelle che interessano ovviamente l'ambito conoscitivo, gli altri tipi di enunciati comunicativi, o di atti comunicativi, invocare, pregare, minacciare, e così via, non sono presi in esame da Aristotele, non gli interessano, il suo fine è la legittimazione della dimostrazione scientifica. Dicevo, quindi, le proposizioni, e quindi sono formate dalla combinazione di più termini, e quindi Aristotele studia quali sono i tipi di proposizioni, che rapporti ci sono tra di loro, e così via. E infine abbiamo la parte più importante, la logica che potremmo definire logica del ragionamento, ossilogistica, in cui invece, sempre procedendo dal semplice al complesso, studiamo come, combinando tra di loro le proposizioni, otteniamo ragionamenti e dimostrazioni, o per meglio dire, come dobbiamo combinare tra di loro le proposizioni per avere ragionamenti corretti sul piano formale, che siano quindi coerenti e necessari, ma che siano anche veri. Quindi, per riassumere, abbiamo la logica dei termini, o concetti, che studia le singole parole, per esempio Socrate, greco, la logica delle proposizioni, che combina i termini tra di loro, li somma in un certo senso, Socrate più greco, uguale Socrate greco, e che quindi studia le proposizioni. E poi, combinando insieme più proposizioni, avremo la logica del ragionamento, o si logistica, in cui invece, si studia quali caratteristiche debba avere un ragionamento, per essere corretto sul piano formale, per esempio, tutti gli uomini sono mortali, i greci sono uomini, i greci sono mortali. Abbiamo la risoluzione di questa conclusione, con queste premesse, dal momento che, appunto, la conclusione è perfettamente coerente, cioè non contraddittoria, con le premesse poste. Bene, abbiamo concluso questa prima parte, o questa prima lezione, sulla logica aristotelica. Auguri da me, e dalla Civetta di Atena.